Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù alla folla Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno Sta scritto nei profeti che tutti saranno istruiti da Dio Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui, vieni a me Non perché qualcuno abbia visto il Padre Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre In verità, in verità io vi dico Chi crede ha la vita eterna Io sono il pane della vita I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoie Io sono il pane vivo disceso dal cielo Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo Gesù tenta con passione di cambiare il cuore della folla che lo cerca a causa della moltiplicazione dei pani Vuole con tutte le sue forze salvare queste anime perse nei propri piccini mondi interiori E nella sinagoga di Cafarnao con intensità prosegue la sua riflessione sul pane di vita E' Dio che attira a lui, dice E' il Padre che ci cerca, che vuole raggiungerci Ma non basta Se davvero cerchiamo Dio con sincerità Riconosciamo in Gesù il suo messaggero E ci mettiamo in ascolto della sua parola Gesù ci racconta davvero chi è Dio Perché lui e il Padre sono una cosa sola Un unico legame Non abbiamo più bisogno di cercare Dio E' lui che ci ha cercato e ci ha raggiunto in Cristo Scoprire questa dimensione ci spalanga alla vita eterna Che è la vita dell'Eterno Vita eterna che non è, come talvolta pensiamo Qualcosa che accade alla fine dei tempi Ma la vita dell'Eterno che sgorga in noi Se lo lasciamo fare Se accettiamo che conduca la nostra vita Nutriamoci del pane di Dio che è la sua parola La sua presenza, l'Eucaristia Memoriale del Risorto Così facendo lasceremo finalmente scaturire in noi E realizzarsi la vita di Dio in noi Vi auguro una buona giornata Dio vi benedica Così facendo la vita di Dio in noi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.